Mediterranea, una conferma quest'anno, ha anche una collaborazione con Chieti e la settimana mozzartiana, perciò si amplia e ovviamente questo non fa che dare nuova luce e soprattutto nuova affluenza. Assolutamente, utilizziamo questa sinergia con la settimana mozzartiana di Chieti, il sindaco di primi ha avuto questa idea, gli riconosco questa primogenitura, per cui l'abbiamo accettato con entusiasmo, venentieri. Noi siamo convinti che la formula adottata quest'anno si vada in linea con gli ultimi anni che hanno dato numeri importanti, in particolare avremo le tre serate con i chef stellati, avremo i vent'anni della DOP a Prutino Pescarese, per cui ci sarà tanto da vedere, e tanto da assaggiare, una cinquantina di espositori importanti dell'agroalimentare, con questa novità delle birre artogianali che si sta imponendo, è molto importante, l'area street food col diretti e CIA, per cui aspettiamo tutti al porto turistico, perché siamo certi, siamo assolutamente certi, che la formula insieme a questo gemellaggio con la settimana mozzartiana di Chieti sarà molto interessante per chi ci viene a trovare.